Musica Gentili amici buonasera, bentrovati, nuovo appuntamento con Confagricoltura News, vado a presentarvi l'ospite di questa sera, è tornato a trovarci negli studi del Boma il direttore di Confagricoltura Mantua Daniele Sfulcini, buonasera direttore. Allora torniamo a parlare di credito d'imposta, l'abbiamo già fatto dal punto di vista diciamo un po' più tecnico qualche settimana fa, ci sono delle novità, quali sono e poi dobbiamo anche dare notizie ai nostri amici a casa di una serie di incontri che Confagricoltura organizza sul tema. Prego. Con la finanziaria del 2020 in effetti gli uffici confederali sono riusciti a inserire questa forma di aiuto sotto forma di credito d'imposta. Ha trovato Confagricoltura in altre rappresentanze delle piccole imprese un alleato prezioso perché comunque anche le altre piccole imprese avevano difficoltà a inserirsi in questo filone che era congegnato soprattutto per le grandi imprese. E quindi l'essere riusciti a inserirsi in questa possibilità di contribuzione è stata un'attività sindacale molto importante e quindi avremo a breve la possibilità di illustrarla ai nostri associati nelle varie zone. Prevediamo così all'inizio di marzo di fare un giro, di avere alcuni appuntamenti per poter così illustrare la novità del credito d'imposta. È importante per due aspetti, soprattutto perché appunto il 40% di contributo sulle macchine e sulle attrezzature è un aiuto importante dal punto di vista economico, sindacale e sociale perché per la prima volta anche il settore agricolo che spesso è visto come un settore un po' arretrato che non innova, rientra a pieno titolo invece tra i settori come l'industria e l'artigianato che è importante per l'aggiornamento, per l'innovazione di tutto il paese. Quindi finalmente anche il settore agricolo al pari di artigianato e industria fa parte a pieno titolo dei settori che innovano. Certo, il famoso 4.0 di cui tanto si parla. Ringraziamo Daniele Sfulcini, direttore di Confranicoltura Mantua e noi diamo appuntamento invece ai nostri amici a casa alla prossima settimana. Arrivederci. Grazie a tutti.